Salve amici, oggi vediamo come provare un motore di una lavasciuga aspirapolvere per pavimenti Tineco. Apparentemente sembrerebbe un normale motore in continua, infatti vediamo i due fili rosso e nero. Però quest'altro cavetto con fili più sottili nasconde un segreto. Sul motore vediamo che c'è scritto 21,6V continui 150W, quindi è un assorbimento di circa 7A. Vi faccio vedere come è possibile provarlo per discriminare se il problema è sul motore oppure sull'elettronica di controllo. Per provarlo dobbiamo svitare queste tre viti, allo stesso tempo scopriremo qual è il segreto che si nasconde sotto questa custodia. Rimuovendo la copertura ci accorgiamo di una scheda elettronica abbastanza sofisticata, al cui interno troviamo anche un microcontrollore. Vediamo che si tratta di un motore trifase brushless, quindi senza spazzole, e il collegamento del motore alle tre fasi lo vediamo qui, U, V e W. Per poterlo provare rimuovo il connettorino a tre fili, due alimentazione mediante un alimentatore al più e al meno. Ho impostato sull'alimentatore una tensione di 16V perché nonostante qui abbiamo un'alimentazione da 21,6V sicuramente il motore partirà anche con tensioni più basse. Quindi per non utilizzare la massima corrente ho impostato l'alimentatore a 16V. Per poter avviare il motore e farlo partire alla massima velocità devo collegare i fili nominati in, e quest'altra cosa che non si legge, FG, il secondo, di questa morsettiera, di questo connettore, tramite una resistenza da 10kΩ al polo positivo dell'alimentatore. Poiché i contatti sono molto vicini, utilizzerò questa pinzetta che ho collegato tramite questo coccodrillo e la resistenza da 10kΩ al positivo dell'alimentatore, e andrò a fare contatto sui primi due segnati input e FG. Se il motore funziona dovrebbe partire alla massima velocità. Ok, abbiamo accertato che il motore funziona. Ripilogando per provare questo genere di motori, montato anche su altri lavasciuga e aspirapolvere, dovete collegare un alimentatore sui positivo e negativo e, tramite una resistenza da 10kΩ, effettuare un ponticello dei contatti denominati input oppure enable e un altro filo che è il comando di regolazione dei giri. Il terzo filo in questo caso è utilizzato come risposta, come feedback del numero di giri verso la scheda madre. Grazie, alla prossima!